Parliamo della lotta agli sprechi, sprechi alimentari. Contro la cultura dello spreco arriva in Veneto, rimpiattino, la doggy bag italiana. A fare da capofila è proprio Vicenza con 11 ristoranti. Una heat bag per superare l'imbarazzo, ma la borsetta in questione non è simbolo di eleganza e prestigio, bensì di lotta allo spreco. Arriva in Veneto e parte da Vicenza il rimpiattino, versione italiana della doggy bag. 11 locali aderenti a Confcommercio Vicenza fanno da apripista per il lancio in regione dell'iniziativa contro lo spreco alimentare, promossa a livello nazionale dalla FIPE. Perché il cibo non è una merce qualunque, è un condensato di valori culturali, sociali e ambientali che merita il massimo del rispetto. Portarsi a casa all'avanzo dal ristorante è un'abitudine consolidata in molti paesi, ma che in Italia è ancora poco diffusa. L'impiattino secondo me è un'ottima soluzione per eliminare quel dato importante, che è quel 55% di vergogna che si può avere a chiedere, non lo chiamo doggy bag, un pacchettino da portare a casa. Secondo una ricerca a FIPE, infatti, se il 90% dei ristoratori è già attrezzato con comuni contenitori di alluminio per il trasporto a casa del cibo avanzato, solo il 15,5% dei clienti chiede di portare via quanto non consumato, perché il 55% si sente in imbarazzo. Nel Vicentino, nell'arco di un paio di mesi, si prevede di distribuire almeno 5.000 rimpiattini.